Il clima è un clima molto positivo, di grande caratteristica e di grande caratteristica. Il clima è un clima molto positivo, di grande caratteristica e di grande caratteristica e di grande caratteristica. Il clima è un clima molto positivo, di grande caratteristica e di grande caratteristica e di grande caratteristica. Ma nessuno di loro ha pensato di chiedere ai lavoratori e alle lavoratrici metalmeccaniche se sono d'accordo o meno su quello che hanno fatto. Questo strappo democratico è gravissimo, per questo è assolutamente necessario e nella manifestazione anche questo sosterremo non solo che il lavoro è un bene comune che quindi va messo al centro dell'iniziativa politica e dell'iniziativa di tutti, ma sosterremo anche che la legge, perché ci sia il referendum per legge nei luoghi di lavoro, sia fondamentale e venga portata avanti perché la democrazia non può fermarsi ai cancelli delle fabbriche.